Situato sulla pittoresca costa di Spalato, il palazzo di Diocleziano è un'imponente villa fortificata progettata per dare ai visitatori che arrivano dal mare l'impressione di un edificio romano tradizionale riflettendo la severa estetica della tetrarchia. Questo maestoso complesso storico è famoso per la sua struttura architettonica ben conservata che combina elementi funzionali con una notevole grandiosità estetica. Il palazzo presenta due livelli di mura che affacciano sul mare progettate per essere visibili da distanze significative conferendo all'edificio un aspetto maestoso e imponente. La struttura è sormontata da un portico con colonne incassate nel muro tipico degli edifici romani ma caratterizzato da tre grandi aperture ad arco al centro e alle estremità che aggiungono un tocco di eleganza e apertura visiva. L'ingresso nord conosciuto come la porta aurea mostra influenze orientali ed è utilizzato per cerimonie fungendo da principale accesso terrestre al palazzo. Questo ingresso è particolarmente ricco di decorazioni con staffe che sostengono due livelli di colonne indipendenti. Le sporgenze del livello superiore supportano una serie di nicchie ad arco arricchite da foglie di acanto e spirali sui capitelli delle colonne. All'interno il palazzo era originariamente adornato con mosaici policromi rivestimenti in marmo e opus sectile anche se gran parte di questi materiali preziosi furono saccheggiati nel VII secolo. Il peristiglio è sorretto da colonne di granito rosso egiziano e marmo cipollino con capitelli corinzi recuperati dimostrando la ricchezza dei materiali utilizzati. Nel corso dei secoli il palazzo ha subito diverse modifiche tra cui la conversione di alcune aree in cappelle nel XVI secolo mostrando la sua continua evoluzione e adattamento. Le porte decorate del palazzo conducono a una rotonda cupola che funge da vestibolo sottolineando la grandiosità e la complessità dell'architettura. Il palazzo di Diocleziano non è solo un testimone della storia architettonica romana ma continua a essere un punto di riferimento per studiosi, turisti e appassionati di storia offrendo una visione unica nel suo genere sulle pratiche architettoniche e decorative del passato. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!